Buona giornata, seconda parte di questa sezione di Sette in Punto dedicata ai writers, la città e un artista che abbiamo qui vicino a noi, Med514, ben trovato e buona giornata. Come dicevamo e come anche testimoniato, Luke, reduce da questo inizio di lavoro al complesso Ater di Via Fratelli Carraro a Padova. Innanzitutto, quanto bello è per un artista poter avere una possibilità di espressione di questo tipo? Allora, diciamo che poter dipingere in grande è una delle cose più divertenti da fare per noi, soprattutto perché poi una volta andati in grande si fa fatica a tornare indietro, sostanzialmente perde di sapore la superficie piccola e di conseguenza è decisamente una bella soddisfazione, sicuramente. Ecco, un artista vero e proprio, e infatti capiremo tra poco anche nei vent'anni di carriera, i vari precorsi svolti. La domanda che viene però è il fatto quanto di carbonaro sia stato fatto nel corso di questo periodo, cioè di quanta difficoltà poter agire alla luce del sole? Io penso che, come tutti i percorsi, vedano tempi di luce, di buio, insomma. In questo momento, anche perché sono passati vent'anni a livello sociale, mi riferisco al mondo intero, di questo tipo di arte, in realtà sono ormai quasi 50 anni da quando ci sono state le prime cose negli Stati Uniti. Comincia ad essere una, comincia a dettare dei concetti estetici all'interno della società molto importanti, anche perché tante persone che si occupano di dipingere, eccetera, poi nella loro vita privata fanno gli architetti piuttosto che i designer, piuttosto che, e di conseguenza mettono del loro nell'immaginario comune per cui a un certo punto c'è un certo tipo di fusione, di integrazione. Riconosciuto artista a livello internazionale, più rispetto a Padova stessa e all'Italia? Beh, oddio, nel senso, faccio parecchie cose in giro sia in Italia sia all'estero, poi dove io venga riconosciuto di più, insomma, non saprei. Tanto estero comunque nel suo lavoro? Sì, sì, ultimamente sì, sempre di più. In che zona in particolare? Quali sono le, se ci sono le attitudini più sensibili? Ma, sono appena tornato al Brasile, che siamo stati lì a fare una cosa a Porta Alegre, anche Orion adesso è lì in Brasile, è un'altra... Ecco, dicendo di Orion abbiamo anche la possibilità, tra l'altro una delle prime immagini che possiamo scorrere è il... Non è il tag questo, è il... Beh, è un pezzo di Orion, sostanzialmente. È un pezzo di Orion. Il tag è praticamente la scritta dove uno firma il proprio nome, questo è il pezzo dove vengono sviluppate e studiate le lettere nello stile proprio dell'artista, sostanzialmente. Orion è un collega di me, un amico, diciamo, operativamente, altri appunto nomi, Joyce, Yama, Axe... Il gruppo è di sei, sostanzialmente. Il gruppo è di sei di quelli che stanno facendo, che parteciano all'evento ED, sì, senza mai dubbio. Nel totale il gruppo delle AD conta una dozzina di persone, sostanzialmente quasi tutti di Padova, ce n'è un paio fuori, uno di Bologna, Dado e Sica di Bassano, comunque non ci siamo allargati tantissimo. Io faccio domande che potrebbero essere banali, ma che appunto vengono spontanei appunto da chi conosce poco. Cioè, tra le crew ci sono rapporti di vicinanza, di collaborazione, o c'è in qualche modo una sfida anche positiva, diciamo? In realtà è uno specchio di quello che sono le dinamiche umane, nel senso che comunque c'è sia rispetto, sia a volte sfida, ma le sfide si trovano più che altro nelle grandi città, sostanzialmente, dove c'è più gente, eccetera. Per realtà, come Padova, o comunque non da metropoli, diciamo, lo scambio è spesso un momento di crescita e di condivisione. Sono più i lavori proposti o quelli che vi vengono commissionati? Oddio. Diciamo che in qualche modo noi da sempre abbiamo questa esigenza di fare, per cui a prescindere dalla committenza, diciamo, noi continuiamo il nostro operato sostanzialmente. Va un po' a periodi, va un po' a periodi. Ovviamente, ultimamente, ci sono molte richieste su inviti a partecipare a convention, piuttosto che a fare vari tipi di interventi in giro, per cui bene o male direi un 50-50 sostanzialmente. Ecco, tra questi, allora, in questo 50 che viene commissionato, quante amministrazioni pubbliche ci sono? In queste... Diciamo, nella parte che vi viene commissionato del lavoro, sono molte le amministrazioni pubbliche o sono più privati che vi chiedono, locali precisi, piuttosto che... Io direi che sono due tipi di realtà diversi, nel senso che comunque con i privati c'è un tipo di rapporto più commerciale, in qualche modo, mentre con le amministrazioni pubbliche spesso sono realtà associative, piuttosto che crew che in qualche modo interagiscono con le amministrazioni locali e di conseguenza cercano di organizzare delle cose simili a quelle che abbiamo fatto qui, come AED o come varie cose che abbiamo fatto in passato, tipo il Meeting of Style, che è una manifestazione internazionale che vede più o meno 30 città in tutto il mondo e le prime tre edizioni italiane le abbiamo organizzate noi qui a Padova, sostanzialmente. C'è un lavoro di cui va particolarmente fiero? Uno in particolare? Oddio, uno che duri particolarmente nel tempo, no? No, perché in qualche modo, beh, diciamo, sono stato l'anno scorso a Londra, abbiamo fatto un bel lavoro per un festival di breakdance, diciamo, in qualche modo, ed era all'interno del Sadler's Wheel, un teatro di danza di Londra molto importante, è stato un bel riconoscimento, insomma, proprio per la location, perché era all'interno ed era una cosa dove, insomma, non erano esattamente consoni i graffiti all'interno. E un qualcosa che vorrebbe fare, invece, che al momento resta soltanto un'idea? Ma una cosa che mi piacerebbe fare sarebbe continuare a fare grandi superfici, sostanzialmente, proprio per il motivo che le spiegavo prima, nel senso, quello che dà di soddisfazione una superficie grande è molto diversa dal muro che comunque comunemente si trova. Quando parliamo di grandi superfici, intanto specifichiamo cosa, ad esempio, abbiamo visto prima... Ma, allora, diciamo che quello in cui siamo impegnati in questi giorni qui sono quattro facciate alte 23 metri per 7, per cui, insomma... Vediamo se anche riusciamo ad andare alla spiegazione. Quindi, in questi giorni e in quanto dovrebbe durare, innanzitutto, l'intervento? Allora, ogni persona, diciamo, ogni artista avrà all'incirca una settimana di otto giorni, cioè otto giorni, e la cosa dovrebbe essere svolta in tre run, sostanzialmente, quindi a coppie, e dovrebbe finire nei primi giorni di maggio, sostanzialmente. Sì, quindi quello... E sono tempi buoni per poter, appunto... Sì, sono tempi buoni, l'unica cosa è che bisogna avere fede nel tempo, diciamo, in qualche modo... Atnosferico. Esattamente. Sono queste le immagini dell'inizio dei lavori. Sì, 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 esattamente. Quindi adesso cominciamo a una piccola carrellata, insomma, dell'attività. E quindi vediamo agli inizi, ma cosa dovrebbe portare, in pratica, come verrà applicato esattamente quello che è stato visto? Ma, niente, sostanzialmente stiamo... abbiamo preparato i fondi, abbiamo cominciato a fare la traccia del lavoro, sostanzialmente. Voi salite? Sì, noi saliamo lì. È decisamente impegnativo, sia psicologicamente che fisicamente. Però, alla fine, dà delle soddisfazioni. Verranno, appunto, realizzati quattro pezzi dei quattro artisti coinvolti, in questa location di Bia Fratelli Carraro, dove sarà, appunto, l'elaborazione delle lettere, dello stile proprio di ogni artista, sostanzialmente. Uno in fianco all'altro sarà... Sì, sono due palazzi e quindi sono due a due, sostanzialmente. Tornando a prima, è stata quindi una proposta vostra, poi, quella di dire cosa si poteva fare effettivamente? Ma, sì, nel senso, quello che abbiamo pensato è stato di proporre, in qualche modo, al Comune, un modo per valorizzare questo tipo di espressione in una maniera definitiva. Insomma, avere la possibilità di vedere delle opere di questa dimensione dà un'impressione completamente diversa e rende molto di più l'idea che non la parete alta due metri, che spesso, per tempo, altri impegni, le persone si fanno scorrere a lato senza prestare troppo attenzione. Ecco, qua, insomma, è un po' difficile non riuscire a prendere... In qualche modo. Esattamente. Nuove leve ci sono? E come crescono, diciamo? Sì, beh, oddio, c'è un rigenero, sì. Diciamo che c'è un po'... Ci sono delle ondate di moda, di quattro anni, quattro anni, almeno da quello che io ho potuto vedere. Ce n'è sempre, perché comunque è una cosa divertente a fare, nel senso... Crescono a seconda del loro libero arbitrio, diciamo, c'è chi viene a vedersi lavorare e poi magari ci segue su qualche progetto e cresce con noi, altri che prendono le loro strade, però assolutamente nel migliore dei modi possibili, nel senso che comunque è giusto che la gente scelga liberamente quello che preferisce fare, sostanzialmente. È diventato un lavoro, ma da passione, diciamo. Era una passione molto costosa? Sì, soprattutto in principio era una passione costosa, perché ovviamente i colori hanno il loro prezzo. Poi in realtà, partecipando spesso e volentieri a convention, in qualche modo c'è sempre un modo per avere un, diciamo, un fondo di magazzino senza dover spendere troppi soldi. La passione è anche pericolosa da questo punto di vista, perlomeno agli inizi? Beh, è pericolosa, come dicevo, siamo a 24 metri e penso che sia decisamente... Siamo imbragati, tutto a norma e in sicurezza, però basta un filo di vento e si comincia a oscillare anche di un metro, per cui è divertente. E lì come vi siete formati, curiosità? Ah, lì siamo formati, va bene, nel senso abbiamo la patente e tutto quanto per guidare le cose, poi lì ci si forma un po' sul campo, sostanzialmente ci si prova, su delle macchine un po' più piccole che arrivano a 8-10 metri, eccetera. Questa volta, almeno per me, è la prima volta che vado a 24 metri, insomma. Questa arte pura può essere confinata in un confronto? Ci sono gare, ci sono sfide, contesti di questo tipo? No, ma perché sarebbe come voler far competere due artisti diversi. Non avrebbe senso. No, non ha senso perché l'espressione è assolutamente soggettiva e rappresenta quello che una persona ha dentro e il modo in cui decide di esprimerla, per cui non è che c'è uno che lo possa fare meglio. C'è probabilmente uno stile che può piacere di più e uno che può piacere di meno, però anche lì è soggettivo, nel senso non c'è un taglio con l'accetta per dire questo è bello, questo è brutto. Per cui si lavora più, appunto, quando ci sono queste convention, più su una logica di scambio, interazione, condivisione che non di gareggio. Anche se la competitività c'è, ma non è palesata, nel senso è più costruttiva, ecco, diciamo. Ultima valutazione. I cambiamenti avvenuti in questi vent'anni di esperienza del street art. Sono stati molti e soprattutto ci si può pensare a un ventennio successivo con una modifica totale della prospettiva? Oppure sono piccoli passi? Tanti cambiamenti, adesso appunto diciamo che negli ultimi cinque anni c'è questa ondata di street art che fa molta confusione perché appunto è una cosa nuova e che spesso appunto viene mescolata con quello che sono i graffiti. Per cui, boh, credo che sarà difficile in qualche modo riuscire a tenere separate, con un taglionetto, le cose. pensando a un ipotetico futuro, non credo che ci sarà... In realtà sono molto curioso di vedere cosa succederà, nel senso dove si evolverà lo stile, in quale direzione. Ci sarà modo di viverlo, insomma. Sì, assolutamente, nel senso sarà molto divertente. Bene, ricordiamo allora, oltre a Made 514, chi sono gli altri artisti? Allora, coinvolti nel progetto AED, c'è Joy, c'è Orion, c'è Yama, c'è Axe e c'è Zagor. Bene, quindi come abbiamo detto fino all'inizio di maggio, presso il complesso ATER di Via Fratelli Carraro. Di Via Fratelli Carraro e poi si sposteranno in Via Stella e in... Ah sì, mi ricordo l'altra via. Comunque appunto, sempre nell'altra via. Però comunque, andando sul sito dell'Associazione Geos, sicuramente ci saranno tutte le informazioni. Ci saranno tutte le informazioni. Grazie ancora e buona giornata, Made. Altrettanto. A tra poco con la seconda parte di Stati in Punto.